Io credo che essere con Berlusconi dall'inizio alla fine, soprattutto nel momento di sua più grande debolezza sul piano ovviamente umano, anche giudiziario, siamo tutti con Silvio Berlusconi. Vuoi dire qualcosa a Alfano? Alfano, io ieri sera ho chiuso un'intervista a Sky, se si può dire, dicendo che avrei sperato che oggi tornasse a casa e dimostrasse nei fatti che Silvio Berlusconi è il leader dei moderati e che loro ne riconoscano la leadership. Con quella scissione che hanno operato ieri, con molta evidenza hanno preso in giro gli elettori di centrodestra.